Vado io. Quindi voi mi state dicendo che nessuno di noi ha segreti. Eh, ma che... I segreti ci vuoi avere. Magari, ci conosciamo tutti a memoria. Ok, allora facciamo un gioco. Mettiamo qua tutti i nostri crollari. E poi? Per la durata della cena, messaggi, whatsapp, telefonate, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no? Ora ti spiego. Ma che vuoi spiegare? Questa ha scritto, c'ho voglia di scovare. Tante volte puoi essere il T9, eh. Che cazzo dici da te? Da, letta a me, sei troppo innamorato di mamma per capire quanto è stronza. Le ho trovato un pacchetto di preservativi nella borsa. Oddio, se capitasse a Rosa. Amore, Rosa compie sei anni a giugno. Io non lo so mica se sarei una brava mamma. Ma perché sei incinta? Oh, allora la vostra. Non c'è ancora niente da brindare, carlì. Beh, già il fatto di qualcuno scopa. Questi cosi ci stanno rovinando l'esistenza. Ci stanno portando via il privato. Dio, se hai un amante, non lo voglio sapere. Parla, parla, sono i tuoi migliori amici. Magari anche loro vogliono sapere, no? Io non voglio che finiamo come Barbie e Ken. Tu, tutta rifatta e io senza parole. Dami quel telefono. Dami quel cazzo di telefono! Gioga. Siamo amici da buoni, siamo ragazzini. Ma non vuoi dire che sei? Oh, mi dici da quanto dura! Riccata. Steve Jobs. Ma non era morto. Invece se era vivo chiamava mia moglie. Allora. Allora. Ah, ah, ah